7 novembre 2019 bentornati su C per tv oggi 30 minuti e mom come d'altronde tutti i giovedì da quando ci sono gli open il minuto 1 12 oppure 10 e salt bar calories il minuto 2 e il minuto 3 due movimenti che sceglierete e sceglierete come vorrete movimenti che volete perfezionare che sono i vostri punti di dibolezza sui quali quindi lavorare è tutto anche per oggi ci vediamo domani per l'ultimo world di questa settimana su C per tv buona giornata